Carlo Patriarca, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto, qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere questo romanzo pubblicato da Neri Pozza nella collana editoriale I narratori, il romanzo intitolato La Curva di Sopravvivenza. La Curva di Sopravvivenza che noi andremo a scoprire, ma non troppo, perché qui nel Posto delle parole, come ci piace dire, andiamo a stare sulla soglia delle storie, perché oltre alla soglia saranno gli ascoltatori, prossimi lettori di questo nuovo romanzo di Carlo Patriarca che vive a Milano, professione medico, dirige un reparto di anatomia patologica e autore già di diversi libri, Il Campo di Battaglia e il Cuore degli Uomini, pubblicato da Neri Pozza e poi nel 2020 con La Sfida e quindi due anni fa Shock. E adesso, dopo lo Shock, La Curva di Sopravvivenza. Ed è una storia particolare, ci sono veramente molti livelli nella prospettiva di questo romanzo e anche nella prospettiva di lettura. Ma cominciamo da che cosa, Carlo Patriarca? Dall'immagine di copertina, perché è un'immagine che è di un'essenzialità straordinaria. Ce la vuole raccontare? Le copertine vengono scelte come naturale, giusto dagli autori. Evidentemente qualcosa di un certo capitolo di quel libro ha colpito i lettori della casa editrice. Mi riferisco a una salita in bicicletta fino a un passo che è leggendario per il ciclismo, perché è il passo dello Stelvio. Sì, l'essenzialità è vero e poi la strada si fa sempre più stretta in quella copertina. Credo che la cosa sia legata al fatto che la salita che compie questo medico, che è un chirurgo, è una specie di lavacro di sudore ed è anche un modo per cercare di tenere alla larga, lontano dai pensieri di questo medico, un incidente. Naturalmente noi qui ci fermiamo, ma è un incidente che ha a che fare col suo mestiere. Durante questa salita medita su questo incidente fino a un certo punto, perché appunto la fatica lo costringe alla concentrazione sullo sforzo e poi quando infine raggiunge il passo dello Stelvio ha modo di ripensare, forse sotto una luce un po' diversa quanto è accaduto. E poi c'è una specie di piccola epifania durante la discesa. Per me questa cosa per fortuna non è una facendo autobiografica, ma diciamo che ho salito lo Stelvio in bicicletta un paio di volte, quindi so che cos'è dal punto di vista proprio della performance atletica. Io non sono uno sportivo. Però ha fatto lo Stelvio, non è uno sportivo, ma comunque, come si dice, ha la giusta gamba Carlo Patriarca. Va bene, almeno quello. Sicuramente. Tra l'altro la copertina è di un autore molto importante, di un autore che lavora attraverso il collaggio, creando queste situazioni molto particolari, Oleg Borodin. E adesso entriamo piano piano in questa storia che ci ha già anticipato attraverso queste pagine dove si racconta la salita e dove la salita non è semplicemente un pedalare, che è già molto. La salita rappresenta anche, lo diceva poco fa, un lavacro di sudore e in questo lavacro di sudore un rimestare tutti quanti i pensieri. Ma io vorrei, prima di entrare in questa storia, Carlo Patriarca, citare le due frasi in esergo. Taccerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. Queste parole arrivano dal giuramento di Ippocrate. Ma c'è la seconda frase, che per certi aspetti sentiamo molto vicino, perché il nostro podcast si chiama Il posto delle parole e, diciamolo pure, prende spunto esattamente da quel film di Bergman del 1957, dove la parola ha preso il suo posto, dove quasi in questo flusso continuo il dolore di quest'uomo che viene raccontato in questo viaggio, un film straordinario, e la frase è questa. Qual è il primo dovere di un medico? Mi lasci riflettere, non me lo ricordo più. Il primo dovere è chiedere perdono. Ora, in che modo queste due frasi, Carlo Patriarca, si parlano? Forse una risposta sta nel titolo, perché per i medici la curva di sopravvivenza è sempre una curva collettiva. In una certa pagina di quel libro racconto di come per un oncologa sapere che una certa malattia al 70% di sopravvivenza a 5 anni significa salvare 70 persone su 100, ma se un paziente è nel 30% di quelli che non vengono salvati, beh, per lui è il 100% di fallimento. E non c'è niente da fare, la statistica entra nella testa, ma non entra nel cuore. E noi tutti speriamo di essere dalla parte giusta delle statistiche. Allora, i medici che maneggiano statistiche, maneggiano curve di sopravvivenza, non maneggiano la curva di sopravvivenza individuale sempre. Sia ben chiaro, non voglio svendere la mia professione, al contrario, perché alla fine è proprio con i risultati accorpati, quindi con i risultati statistici che la medicina procede. Però c'è un destino individuale che va sempre tenuto presente. E in questo senso la curva di sopravvivenza a cui mi riferisco io è individuale, non collettiva, cioè la curva che noi impremiamo alla nostra vita per superare le difficoltà, ma che ci espone al pericolo. È un tornante del passo dello Stelvio, che è un momento in cui si respira, ma è anche una curva micidiale, una discesa libera. Ho provato a esercitarmi come narratore anche in descrizioni di performance atletiche, che è una curva micidiale che può essere un momento di caduta. Ecco, non so se le ho risposto. È questa contrapposizione tra due diverse visioni della curva di sopravvivenza, forse che mi ha spinto a quell'esergo. Però vorrei ancora proprio rimanere Carlo Patriarca su questa frase dal film Il posto delle fragole. Il primo dovere di un medico è chiedere perdono. Vedo qui questa sottolineatura, una tra le tante di questo libro. E questa riga, il primo dovere è chiedere perdono, mi ha accompagnato in tutta questa lettura, perché cercavo sempre una ragione, un appiglio, un filo rosso che mi portasse a questo dovere del chiedere perdono. E credo che sia una prospettiva molto singolare. Non so come dirle, la medicina non è scienza, la medicina usa le scienze e quindi nella medicina c'è un progresso. La medicina procede per tentativi ed errori e per rettifiche. Di nuovo senza svelare nulla, ma lei avrà letto in uno degli ultimi capitoli che originariamente si intitolava Congresso, quello che successe. E questa è una storia ispirata a un fatto di cronaca negli anni 90, quando molti oncologi in buona fede seguirono un trial che era stato alterato ed era un vero e proprio falso scientifico, una frode. Quindi, diciamo, come vede elementi di riflessione, poi in 40 anni di carriera qualsiasi medico onesto deve averne, insomma. E quindi la fretta e la presunzione, come scritto a un certo punto nel libro, sono i nemici peggiori. La fretta e la presunzione sono i nemici da cui guardarsi. Un grande nostro maestro, lo diceva Proudness and Pressure, che era il professor Rosai, che purtroppo non c'è più, come rischio anche nel mestiere del patologo. Ci vuole calma, ci vuole tempo, capacità di confrontarsi con gli altri. Poi il nostro è un mestiere che è cambiato nel corso degli anni. Per fortuna ora si può appoggiare su molti elementi biologici. Se posso offrirle una metafora per intenderci nel mestiere che facciamo noi, che ha a che fare anche con due capitoli del libro in cui ci sono, diciamo, delle false immagini che possono portare il patologo a conclusioni sbagliate. Lei si immagina di camminare lungo una strada e di vedere una persona sconosciuta di spalle, ma sa che quella persona abita in quella strada e assomiglia a chi le immagina. Bene, i nostri maestri non avevano possibilità di, come dire, di costruire intorno a quella persona degli elementi che ne costituissero una carta di identità. Potevano solo dire, beh, è lui, è Paolo, è Federico, è Riccardo. Ora noi abbiamo la possibilità attraverso delle colorazioni, attraverso di studi biologici, di chiamare quella persona e vedere se si gira. Non basterà il nome di battesimo, ci vorranno magari due o tre o quattro nomi finché chiamandolo correttamente lui si girerà ed è proprio la persona che noi pensavamo fosse. Quindi questo per spiegarle come il mestiere del patologo non è un mestiere analitico, ma richiede un inquadramento clinico, sapere che quel certo sconosciuto è in una zona in cui potrebbe essere la persona che tu credi sia e in più hai la possibilità oggi di chiamarla questa persona e se questa persona si gira allora è effettivamente chi tu pensavi. Ecco, la persona può anche girarsi, Carlo Patriarca, però mi viene in mente a un certo punto del romanzo, no? A proposito di cellule. Lei scrive, le cellule sono anche mimetizzate per bene, quindi io posso chiamare una persona e anche lì posso sbagliare, no? E qui entriamo veramente dentro il filo di questa storia. Eh sì, eh sì. Per questo rende, se vuole, anche appassionante il nostro mestiere, perché è un mestiere in cui tu devi, prima di concludere, devi dare a queste cellule un nome e un cognome e se sono ben mimetizzate devi studiarle ripetutamente prima di decidere che quelle cellule sono esattamente quella cosa. Ora, senza volere troppo magari entrare in dettagli che non vorrei annoiassero, ma quello che è fondamentale è tenere una mente aperta. Questi capitoli potrebbero anche essere capitoli di un libro, uno potrebbe, un libro di medicina, uno potrebbe chiamarsi eziologia, cioè cause, l'altro diagnosi e l'altro potrebbe chiamarsi terapia, mi riferisco al fegato, al trapianto di fegato. Se tu hai una mente aperta e fai delle domande aperte, soprattutto se hai curiosità nei confronti del paziente, questo ti aiuta a comprendere di che malattia portatore è quel paziente. L'esempio a cui mi riferisco è il contatto che un paziente ha con una volpe, non so se ricorda, verso la fine del libro, e questo contatto con l'animale spiega poi la natura della malattia di cui quel paziente è portatore. Quindi avere curiosità nei confronti del paziente è fondamentale anche per poter pervenire ad una diagnosi corretta. Soprattutto domande aperte e curiosità nei confronti del paziente quando il paziente è come Vittorio e quindi è un ipocondriaco, cioè uno che ha la certezza di avere una malattia. Infatti il romanzo si apre e siamo dentro un ospedale e l'Incipit dice questo «Nei corridoi di un ospedale non è sempre facile distinguere il malato dal sano e spesso lo sguardo del visitatore si ritrova a indagare sulla identità di chi incrocia». È particolare questo inizio che in ospedale non è sempre facile distinguere il malato dal sano. Per certi aspetti può anche essere positivo, ma qui entriamo subito a conoscere Vittorio. Vittorio è in ascensore e c'è già una… prima parlavamo di presunzione, lui ha la presunzione di essere al di fuori, però nello stesso tempo forse cova anche, potremmo dire in maniera forse, mi perdoni e mi dica se sbaglio Carlo Patriarca, quasi in maniera un po' psicanalitica, in quei meandri della coscienza, lui desidera avere una malattia, ma nello stesso tempo desidera essere curato, desidera essere guarito. Sì, la malattia comunque rappresenta una frattura dell'ordine morale per una persona. Lui è ipocondriaco e la scoperta di una malattia reale forse lo guarisce dall'ipocondria, ma questa sua malattia, diciamo a dispetto di quello che lui, perché poi è una persona colta, crede, in realtà sottilmente, subdolamente emette delle specie di sentenze morali e questo si esprime nel pensiero del fratello morto, nel tornare con la mente, con il ricordo al fratello morto e ha un rapporto che lui col senno di poi reputa non adeguato nei confronti del fratello minore. E quindi c'è questa specie di voglia di ricucire le situazioni passate, ma anche ricucire quel senso di amicizia, e qui introduciamo altre due figure portanti di questo romanzo, la figura di Aldo e la figura di Bruno, e qui sono dei personaggi importanti, importanti perché soprattutto a partire da una cosa, dal fatto che Carlo Patriarca ce li racconta da un punto di vista umano, ma anche molto psicologico. Sono due figure molto diverse, non è neanche sorprendente, il patologo è abituato a stare da solo, Bruno si confronta, il suo confronto col paziente è per lo più indiretto, anche se, insisto, è fondamentale. Aldo è un chirurgo, è un chirurgo con, diciamo, come dire, un forte orgoglio personale. Entrambi devono confrontarsi con l'errore e col senso di colpa, soprattutto Aldo, ma Aldo è uno che sa cadere e rialzarsi, viceversa Bruno è più rinunciatario. Sono, ripeto, le considero psicologicamente due figure piuttosto speculari. Poi, alla fine, il cimento più tremendo è quello di Aldo, insomma, perché è forse la persona che si espone di più, mi riferisco appunto a quel problema a cui alludevo prima, di questa frode scientifica in cui lui è coinvolto in un ruolo di, diciamo, di controllore ed è, appunto, inviato prima Tel Aviv e poi in Sudafrica, a questo scopo. Ripeto, sono figure che io immagino anche fisicamente molto diverse tra loro. E Bruno, senz'altro, idealizza l'amico. E come succede sempre quando idealizzi un amico, poi finisci per avere a che fare con una persona che poi non è quella reale, perché poi col trascorrere degli anni, dei decenni, noi tutti cambiamo, insomma. Ma lui è molto affezionato a quest'idea di Aldo invincibile, insomma. Eh sì, perché l'idealizzazione delle persone è qualcosa che va continuamente aggiornata, se no rimane lì, come ci diceva poco fa Carlo Patriarca, e crea danni. E quindi qui non ci sono solamente delle salite, delle discese epiche in bicicletta, ma ci sono anche delle straordinarie sciate. Quindi è un libro anche molto, molto sportivo, perché attraverso lo sport, attraverso quel gesto sportivo. Parlavamo poco fa dell'impegno della salita, che impegna non solo i muscoli delle gambe in continua tensione, ma in continua tensione c'è anche il pensiero. E questo è una cosa importante, che il pensiero non si ferma mai, nonostante queste peripezie quasi eroiche della salita allo stelvio oppure delle discese con gli sci. Eh beh, ma è un po' così, forse per i dilettanti più che non per i professionisti. Il professionista credo abbia passi anche attraverso una formazione mentale che consente una concentrazione nel gesto atletico totale, insomma. Il dilettante invece, appunto, in questo sforzo, in questo, come dicevo prima, all'avacro di fatica della salita o anche in questa discesa un po' spericolata, continuerà ad essere un medico magari con qualche guaio nella testa e queste cose possono affiorare nei momenti magari anche meno indicati. Tutto qua, insomma. Eh sì. Diciamo che io ho risposto molto qui a una pulsione narrativa, insomma, una spinta a scrivere. Questi sono... Un romanzo, diciamo, si può immaginare come dei racconti legati tra loro, scritti, direi, una quindicina di anni fa, insomma. Tra i quindici e i dieci anni fa. E poi come sono diventati il romanzo? Guardi, come lei ha detto all'inizio, io ho scritto fondamentalmente romanzi storici, quindi mi sono confrontato con grandi figure storiche, perfino con Napoleone, il primo. Il campo di battaglia e il cuore degli uomini. Sì. Cosa succede? Che poi dopo, oramai tra pochi anni, a Dio piacendo, andrò in pensione. Mi sembrava giusto lasciare una testimonianza di un mestiere che non è autofiction, ma è, diciamo, anche un modo per avvicinare al lettore una materia che può essere un po' sconosciuta. Noi siamo agli occhi della gente, i medici che fanno le autopsie. Non è così. Non è così. Quando racconti a... Questo però è un risultato molto televisivo, che noi vi vediamo in quella forma. Sì, però quelli perlopiù sono medici legali, patologi forensi. Noi siamo pagati, aggiornati, per diagnosticare malattie, non per scoprire malfattori. Per diagnosticare malattie, distinguere una dall'altra, fornire delle informazioni che servono all'oncologo. Quando tu dici queste cose, dici, tu sei il patologo, sì, fai questo. Ah, sì, senti, però, secondo te, Rose e Olindo sono colpevoli o innocenti? Perché alla fine sembra che quello che più interessa sia questo, insomma. Perché si rimane legati all'idea che il patologo questo faccia, insomma. Quindi ho voluto, nel mio piccolo, cercare di lasciare un segno del cimento, anche della passione, dell'emozione che c'è nello svelare le malattie dietro certe false apparenze. Ed è un lavoro, un esercizio che viene fatto al microscopio tutti i giorni, tutta la vita, insomma. Non possiamo chiudere questa conversazione con Carlo Vatre Patriarca senza toccare il tema dell'arte, perché il tema è importante anche in questo romanzo, no? Per Vittorio, per Vittorio è importante. Quando si parla, per esempio, di come realizzare un ritratto, no? Quali parti del volto sono importanti, si dice delle narici, attraverso le narici si scopre anche che tipo di volto, ma per vedere un volto nella maniera migliore scopriamo che bisogna sedersi sulla poltrona del dentista. Sì, qui diciamo di nuovo, penso che ci siano delle somiglianze tra il mestiere del medico e quello dello scrittore, perché Oscar Wilde diceva che solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. Si potrebbe dire che i medici non sono superficiali, perché giudicano dalle apparenze. Ma quali sono le apparenze a cui pensava Oscar Wilde? Le apparenze che svelano la natura di una persona o di una situazione. Le apparenze a cui guarda il medico sono quei dettagli morfologici o biologici che svelano la natura di una malattia. Quando tu sei sdraiato dal dentista e guardi dal basso il dentista, alla sua assistente, è chiaro che sei colpito dal naso, ma come faccio dire appunto al fratello di Vittorio, a Renato, che è un pittore, ci sono narici volitive, narici malinconiche, insomma ci sono tanti dettagli che possono svelare l'indole di una persona anche dalla forma della piramide del naso. La curva di sopravvivenza, il romanzo scritto da Carlo Patriarca e pubblicato da Neripozza, ma adesso parliamo un po' di lei. Come si è avvicinato all'arte medica Carlo Patriarca? Beh, io ho cominciato come tutti da giovane, insomma. In verità, diciamo, è stata un po' l'idea di continuare a studiare, ecco. Cioè, l'idea era quella di, per me almeno, di cercare di capire qualcosa delle persone, dell'uomo, attraverso la medicina. Poi, sa, con una laurea in medicina si può fare dagli psichiatri agli epidemiologi, ai chirurghi, cioè cose tra loro molto diverse. Quindi mi sono avvicinato alla medicina senza un'idea precisa di che tipo di medico avrei voluto essere, ma con l'idea di, col pensiero che fosse un buon modo per conoscere l'uomo. Un buon modo per conoscere l'uomo è un buon modo per conoscere noi stessi e immergerci nella lettura di questo romanzo che non parla di altri, parla di noi. Perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di riparazione, di trovare emozioni e anche di trovare, come poi cerca di trovare Vittorio, ed è comprensibile, mi corregga se sbaglio Carlo Patriarca, un suo riconoscimento. Perché poi questa è una missione che è data a tutti ed è soprattutto Vittorio che la ricerca. Sì, poi Vittorio è un professore oramai in pensione, a un certo punto gli faccio dire che accarezza l'idea di iscriversi alla facoltà di medicina. Ci sono delle cose strane, insomma, per cui invecchiando poi il corpo, a mio parere, anche io sono invecchiato, e il corpo diventa sempre più importante, nel senso che ti accordi di quanto ti condiziona, condiziona anche i tuoi pensieri, il tuo umore. Quindi forse Vittorio a questa conclusione è arrivato. Per questo vuole studiare medicina. Grazie davvero Carlo Patriarca e buona giornata. No, grazie a lei. Buongiorno.